Noi questa figura l'abbiamo fatta diventare consulenti dei presidenti, di tutto e di più, quindi non ci si può meravigliare se poi dopo vengono determinate dichiarazioni, però penso che qualsiasi procuratore, qualsiasi persona deve sapere che i giocatori sono dell'azienda, sono dell'azienda e i giocatori devono sapere che le dichiarazioni e sono sicuro che è capitato così, Cerbi è un giocatore che tra l'altro c'è una comproprietà aperta con il Chievo Verona, un giocatore che si andrà a definire e poi Genova valuterà attentamente quelle che possono essere i risvolti. Per quanto attiene un pochino amorfa Non può avere una squadra che non la rappresenti, che non sudi sudore e getti sangue come si suol dire, quindi noi, io poi non la concepisco una cosa del genere, la squadra sarà sempre seguita agli allenamenti da un dirigente, io ci sarò anche quasi sempre, alla fine di ogni allenamento, di ogni allenamento badate, non di una partita, di ogni allenamento io faccio le mie considerazioni col tecnico Stavo proseguendo Si fanno considerazioni e con i calciatori si analizza Grazie a tutti Se è così ovviamente Che tanto si vuole L'ultima partita Adesso Oggi, l'anno scorso ha fatto la Cempio, una partita terminale E quest'anno ha like, הה Ник林 Azio due anni fa mi aveva dato froca si è salvata la penultima